Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono Joppa17 e oggi siamo tornati su Yoshi's Woolly World Per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi bentornati su questo titolo Nello scorso episodio abbiamo completato il mondo 2 E oggi insieme a voi ho raggiunto l'isola Gomitolo Perché dobbiamo iniziare e completare insieme i livelli 3.1 e 3.2 Nello scorso episodio vi ho portato soltanto un livello Nell'episodio prima uguale ho completato insieme a voi il livello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il livello 2.7 Oggi ragazzi tornerò in ogni episodio di Yoshi's Woolly World A completare due livelli insieme a voi Naturalmente raccoglierò tutti i fiori sorridenti E i gomitoli di lana per sbloccare tutti gli Yoshi Allora direi di iniziare dal livello 3.1 Che si chiama Yoshi e i biscotti Ok ragazzi eccoci qua Allora ci sono altri tipi di nemici Ok ho raccattato quello A te ti prendo perché mi servi Che livello strano Questo che caspita è Voleva schiacciarmi eh Eh c'è qualcosa qua dietro Perfetto Sentite la musichetta No sono bellissimi Per il momento I tre mondi Che abbiamo affrontato insieme Sono tutti molto belli No non riesco ad arrampicarmi Allora aspettate un secondo Ottimo Oh perfetto Ah ma c'è qualcosa là sopra Forse c'è qualcosa là sopra Bravissimi No non c'è niente Allora torniamo un attimo indietro Perché voglio vedere se C'era qualcosa qui sopra No forse Forse no Infatti non c'è niente Va bene procediamo Ok Devo Sbloccare qualcosa qua Aspettate un secondo eh No Forse devo lanciarlo lì Ok meno male No lui non posso ucciderlo Devo soltanto schiacciarlo Via Yoshi Aha immaginavo Oh meno male Attenzione Ah però posso sfruttare Spara Posso sfruttare i proiettili che lanciano E allora facciamo così guardate eh Aia No forse è meglio starci sopra Perché volevo raccattare tutte le monetine Che poi in realtà non sono monetine ma Sono Bottoni E quelle lì di sopra sono Ok Sono perline Lui lo freghiamo così Ok ottimo Arrampichiamoci Ok No devo essere Più veloce Eh sì Devo essere più veloce Allora torniamo un attimo giù Vediamo se poi il bottone riappare No non riappare Quindi purtroppo Mi sa che per recuperare il fiorellino Devo rifare poi questo livello Va bene dai lo rifacciamo dopo Nel frattempo Proseguiamo Anche perché c'è un checkpoint proprio lì Non avevo più punti vita Ok Poveraccio Che colpo Andiamo dalla talpa Mi prendo il gomitolo di lana E' il terzo Quindi ne ho lasciato uno indietro No No Yoshi Allora Attenzione Ok Ho recuperato tutte le perline Si scende Facciamo così Ottimo No Mi avete tradito all'ultimo E il quarto gomitolo è preso Lì ce ne sono tre Gran colpo E c'è qualcosa qua Perline Lì ci sarà sicuramente una talpa E grazie per il fiorellino E addirittura ne ho persi Due Eh però no Così non riesco Andiamo giù Ehm No Eh ciao Ah di nuovo Di nuovo Niente da fare Questi pezzi qua Devo rifarli poi Con calma Perché Mi hanno fregato Per due volte di fila Prima con i biscotti che cadevano E questa volta con quelli lì che In teoria mi avrebbero dovuto fornire Un appoggio E io vado sopra Questo livello Con i biscotti Non è Così facile Come credevo Dai tirati via Ottimo Eh non c'è niente Strano Molto strano Ah qui c'è qualcosa Quello No Mamma mia Ho rischiato di cadere giù Ok ci siamo Dammi dei cuoricini Ti prego Grazie Ho ucciso la talpa Qui via E quello che Caspita è Un fiorellino Ottimo Allora facciamo così E Scendiamo da lì Così posso prendere Anche tutte le perline Perfetto Via 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 Yoshi via No Aia Non so dove Caspita andare Vai 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 Ok dovremmo essere arrivati in fondo Però ho mancato tanti fiori Tanti fiori Tre fiori e Almeno almeno un gomitolo Almeno almeno un gomitolo Fatemi vedere Sì il secondo gomitolo Ok ragazzi ce l'ho fatta E ho sbloccato Il secondo fiorellino Quindi il primo Si trova Prima Dobbiamo tornare indietro Ok ragazzi Mi sa che Il primo fiorellino Si trova qua Allora aspettate Che prendiamo la rincorsa Eccolo Perfetto Prima abbiamo recuperato Il secondo fiorellino E poi il primo Ok ragazzi Yoshi ce l'ha quasi fatta Perché Il gomitolo Che avevamo mancato prima Si trovava lì Perfetto Ok ragazzi Eccoci qua Volevo mostrarvi un secondo Come raccogliere Tutte le perline Che appariranno Dopo aver cliccato Su quel pulsante Perché probabilmente Ci sbloccheranno L'ultimo fiorellino Non dobbiamo Assolutamente Sbagliare Perfetto Vedete Dovete essere molto Ma molto veloci Anche perché Sti biscotti Ci danno abbastanza Fastidio Perfetto Abbiamo completato Il livello Al 100% Va bene ragazzi Rieccoci qua Ho recuperato Tutti i fiorellini E tutti i gomitoli Che Yoshi Ho sbloccato Yoshi Ciocco Biscotto Fantastico Allora Direi che possiamo Cambiare Yoshi E buttarci All'interno Del livello 3.2 Che si chiama Altalene Nel paese Dei balocchi Ok Eccoci qua Facciamo che Prendere Tutti i tipi Timidi E Devo far qualcosa Qui non c'è niente Mi sembra Tutto molto strano Ah attenzione Questo che caspita Prosegui la sua corsa Dritto Ma se io lancio qualcosa qua Non capita niente Attenzione Ottimo Dei cuoricini Proviamo a far così No però aspettate Io devo Ah Ecco qua Devo salire Scusi Lei venga qua Eh infatti Devo salire No 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 Mi servono Dei proiettili A posto No Non c'è niente Lì Allora Si torna su Una palla Che arrivi Dobbiamo aspettare Ah no Arriva In testa Mi è arrivata in testa Non è soltanto arrivata Mi è arrivata anche in testa Ok Abbiamo pescato Già Un fiorellino Allora Lì Bisogna raggiungere Questo Facciamo che liberare Tutta questa altalena Che succede? Ah Una bella scaletta Chissà dove porta Quella scala Là c'è una pianta Carnivora Vada giù Grazie Io farei Una bella cosa Prima andrei qua Ah ma c'è un tubo lì Allora Facciamo così Tipi timidi Altra sfera Oh Altre sfere Che rotolano E qui c'è qualcosa Eccolo Il primo gomitolo Direi di andare A dare un'occhiata Qua dentro Perfetto Ah Guardalo Il secondo fiorellino Ottimo Ottimo Vedete Ci sono tanti Posti Nascosti No 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 Ok Sono salito lo stesso Ottimo Quello Proviamo No Ok Cos'ho completato Niente Non ho completato Niente Siete sicuri Vediamo un attimo Io sto cercando di raccattare Tutte le perline Ho sbloccato Qualcosa No Mi sa che No Eh no Me ne mancavano due Potevo raccogliere Qualcosa di Probabilmente Molto Ma molto Interessante Non capisco Perché il mio Yoshi Non riesce a Oh Meno male Secondo me O ci sbloccava Un Un altro Gomitolo O O magari Un Un fiorellino Però ho lasciato Un po' di roba indietro Qua Ragazzi Prima ho fatto fuori Le piante carnivore E adesso Attiviamo Quello Questo è mio Secondo Gomito L'ho preso Fantastico Attenzione A questo Ne arrivano Altri C'è qualcosa Lì Da sbloccare Aspettate che Ce la faccio Ok Adesso Possiamo salire Qui c'è roba Interessante Eh però Se non mi Non mi Permetti Di salire Allora Abbiamo sbloccato Un passaggio Di lì Di lì si va Ancora su Facciamo così Perfetto Guarda qua Il fiorellino Dov'era Allora Perfetto Nooo Ho sbagliato a saltare Ho sbagliato a saltare Eh vabbè Abbiamo scoperto Dove si trova Un altro Fiorellino Adesso Poi lo Recuperiamo Bel lancio Che bel lancio Madò È pieno Di tipi Timidi È pieno Di tipi Timidi Eh lo sapevo Che mi facevano La festa Lì c'è una pianta Carnivora Ah le piante Carnivore Possiamo bloccarle Così Vai 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 Yoshi Sono salito su Vai Spero di non essermi Dimenticato nulla Perché sti livelli Stanno diventando Sempre più complicati Qui non c'è niente Forse siamo già Arrivati in fondo Sì Siamo già arrivati In fondo Mi mancano due fiori E un po' di gomitoli Mi sa Vediamo un attimo Mi sa che mi mancano Un po' di gomitoli Sì infatti Due fiori E tre gomitoli Addirittura Ok ragazzi Vi faccio vedere Una cosina Il terzo fiore Si trova qua Vedete dovete salire qua E via Ok ragazzi Un altro gomitolo Si trova qua È il quarto Adesso dopo vi mostro Dove si trova il terzo Ok ragazzi Per beccare il terzo gomitolo Dovete prendere questa strada Qui sotto Non rompere il cubo rosso E poi sfruttare questo Per salire Allora qui c'è un passaggio segreto Molto molto interessante Volevo soltanto raccattare L'ultima perlina Perfetto E abbiamo beccato E abbiamo beccato anche L'ultimo gomitolo Ok ragazzi L'ultimo fiorellino Si trova qua Vedete Opla Perfetto Perfetto Rieccoci qua Vediamo che Yoshi Ho sbloccato E che utilizzeremo Nel prossimo episodio Che caspita di Yoshi è Yoshi giocattolo Giocattolo Fantastico Va bene Direi che possiamo Terminare questo episodio Di Yoshi's Woolly World Qua Ho completato il livello 3.1 e 3.2 Vi ho mostrato Come raccogliere Tutti i fiori sorridenti E i gomitoli di lana Che sono La mia priorità Quando completo questi livelli Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al Canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Yoshi's Woolly World Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale